A Bergamo ci sono state polemiche sulla presenza della bandiera israeliana. Sì, sì, sono tutto. Tutti sono benvenute e benvenuti e benvenuti al Pride di qualsiasi religione. Gli ebrei sono benvenuti, gli israeliani sono benvenuti. In questo momento la bandiera israeliana, in questo momento storico, rappresenta il governo di Netanyahu, non il popolo israeliano, che tra l'altro scende in piazza numerosa contro Netanyahu. Non mi rappresentano quelle bandiere rainbow che qualche soldato israeliano ha voluto far sventolare sulle macerie dei palazzi bombardati, perché noi non ci macchiamo di sangue. La nostra è una storia pacifica, è una storia che non ha mai sorriso ed esultato sui morti. I diritti civili, di cui bisogna parlare in Palestina, questo è vero, non si esportano con le bombe, non si esportano con le morti, non si esportano con la strage di bambini, di donne e di uomini. Fino a quando non saranno riconosciuti due popoli, due nazioni, e si smetterà di fare strage di vittime civili palestinesi, le bandiere del governo di Netanyahu non rappresentano questo problema. Grazie. 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 Grazie.